Un'attesa lunga vent'anni, un intervento che permetterà di consegnare alla città un'area verde con nuove panchine, nuovi giochi e percorsi inclusivi per le persone con disabilità. Sarà pronto entro la prossima primavera al Parco di Carrara, lungo la Flaminia Fano, che permetterà di far interagire tutti i bambini, anche quelli speciali. Il Comune di Fano continua ad investire risorse ingenti sul decoro urbano e sulle aree considerate fondamentali per la socialità e la condivisione. Dal 2016 ad oggi l'amministrazione è intervenuta in 32 parchi della città, di cui 18 totalmente riqualificati. Oltre a questi sono stati realizzati lo skate park nel quartiere di Sant'Orso, le tre aree dedicate al fitness e altri interventi di manutenzione sia al Lido che alla Sassonia. L'importanza delle aree verdi è vitale, perché parliamo di spazi che naturalmente sono spazi di socializzazione, di benessere proprio fisico, ma anche opportunità di nuove amicizie. E soprattutto sono spazi anche di gioco e di tempo libero, che sono due diritti riconosciuti di bambini e ragazzi, diritti che gli aiutano anche a crescere meglio. Proprio per tutti questi buoni motivi come amministrazione abbiamo deciso di continuare ad investire nei parchi. Oggi siamo qui a Carrara, qui faremo un investimento significativo perché questo di fatto diventerà il primo parco inclusivo della periferia. Un intervento dove verrà attrezzato da molti giochi in cui bambini, disabili e non potranno appunto accedere. Parliamo di un'altalena con cestello, parliamo di giochi a molla, parliamo di uno scivolo, parliamo di giochi sensoriali. Insomma daremo una risposta davvero completa. Una parte, prosegue l'assessore all'ambiente Barbara Brunori, sarà allestita anche con un'area antitrauma costruita con materiali appositi simil gomma per permettere ai bambini di giocare in tutta sicurezza. In contemporanea all'intervento di Carrara si sta realizzando l'arredo del parco di Tombaccia con l'installazione di nuovi giochi e la sistemazione del ponticello in legno adiacente all'area verde. Il valore del gioco, il valore dello stare insieme in un momento come questo è fondamentale. Abbiamo investito 600 mila euro all'interno di queste riqualificazioni, è una cifra importante ma che va a finire nel benessere per cui è ben spesa. Mi sento come ogni volta di rivolgere un appello proprio a tutti nella cura di queste cose perché più avremo cura nel mantenerle sane e non essere soggette a dati vandalici, più noi come amministrazione potremo donare uno spazio di gioco ad ogni quartiere.